Oggi abbiamo avuto una tromba d'aria che ha distrutto metà Twiga. Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felici un mucchio di persone. Io non riesco a capire che paese di rancorosi, di sfigati, perché il Twiga dà lavoro a 150 persone, da un indotto milionario all'area, alla zona, però sono felice di far contenti in un giorno come questo, far contenti in tanti che sono felici delle disgrazie che succedono. Invece voglio essere solidari con tutti i bagni di forte della Versilia perché tutti hanno avuto dei danni enormi, adesso ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo. Quattro sfigati che sono contenti che Twiga ha perso 20-50 tende, quelli non bisogna neanche considerarli. Sono delle a*****. Ciao!